Oggi si gioca alla sfida dei Lucky Block da soli però, alla gara dei Lucky Block Da soli beh perché ovviamente non ci sono amici Iniziamo benissimo come ben vedete, siete conti? Cioè, ovviamente, questo qua però, questo qua ovviamente è Nobarbu Senoside Quello là super pauroso, malvagio, cattivo Che in tutti quanti i Lucky Blocks ci sono, ci sono No, 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 non c'è, non c'è in tutti i Lucky Block Perché c'è quel coso che dice Questo è un tuo problema, non ho capito perché, ma vabbè Prendiamo tutti questi Lucky Block ovviamente Perché guardate, questi dovrebbero essere appunto dei Lucky Block malvagi, cattivi, tutti quanti Perché ovviamente sono di Nobarbu, infatti come ben vedete Ovviamente quando mai c'è, nel senso io muoio immediatamente e ho perso tutto, vero? Sì però sono, cioè vabbè ok Non c'è nemmeno la, come caspita si chiama Quella là del, insomma, della Cap Inventory, no? Quella super paurosa, bella però, allo stesso tempo Non so cosa sto dicendo, vediamo se riesco a vincere però Cioè se riesco ad arrivare alla fine Perché questo è la sfida di Lucky Block in dieci minuti Quindi appunto dovremmo arrivare nei dieci minuti Ma che caspita sta succedendo Ma scusate, ma peggio di così non poteva andare, no? Ovviamente come ben vedete non poteva andare peggio di così Ed è pure notte, ma stai scherzando? Cioè è proprio fuori di testa Però posso utilizzare la mia super luminosità maiala No ma, allora perché stai ridendo? Perché, cioè, ti fa ridere questa cosa? Boh, vera, shock, no vabbè scherzo Ti può far ridere qualsiasi cosa Certo che però io sono un po' strano effettivamente No, 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 no Dai, basta! Ma è mai possibile? Ma ci rendiamo conto che ogni cosa Che ogni Lucky Block che apro letteralmente Perché sono i Lucky Block maledetti Ma ogni Lucky Block che apro Cioè mi ammazza in due secondi E cosa devo fare qua? Allora, qua ci sono i Creeper Però sapete cosa faccio? Faccio così, vado da questa parte e me ne vado via Ciao, ciao Creepers E no, non devo farlo evidentemente Ok, cosa dovrei fare qua? Proseguiamo, miei amici magicissimi Allora, adesso c'è anche questo Ovviamente ho tolto tutti gli altri Se no sarebbe stato letteralmente impossibile Però magari possiamo anche tenerli Perché ci sono dei cavalli volanti Con delle... Cosa sta succedendo? Io non voglio sapere, raga Facciamo finta di non sapere Ok, facciamo così Yuppie Avete visto? Quello è stato un parkour difficilissimo Che io ho dovuto assolutamente affrontare Perché ovviamente Guarda, io riesco anche ad affrontare Bob Super indiamantato Con delle selle Con delle selle in pelle Sì, sì, sì No, no, però adesso vedete Guardate E ho ucciso Bob, vero? Non è morto Bene Ancora, vai Che bello Yuppie Eh ma Bob Tu stai essendo super Super Allora, è un po' ridicola questa cosa Perché io ogni Ogni lucky block che sto aprendo È ogni volta più peggio dell'altra Anche se non si dice più peggio Peggio dell'altra Ok? Ogni volta è peggio Peggio Sempre più peggio E non va bene Perché Perché sono il lucky block di Aeno Barbus E no sai Il cattivone Che ci vuole far fuori tutti quanti Cioè, vabbè Nel senso, no In realtà che vuole addescare Tipo dovrebbe essere La creepypasta Cioè, tipo vuole addescare su internet Infatti Io ho fatto altri video di lui Quelli super horror Infatti dovreste vederli Se avete voglia Vi indirizzo Ai video Se mi ricordo Vabbè Di sicuro mi ricorderò Dai, non sono così stupido Giusto? Perché sto prendendo delle cose Totalmente inutili Che non mi servono A niente A parte che Sì, però dai Cioè, scusami Ma è mai possibile? Cioè, dico io Adesso Uccidiamoci Mannaggia però, eh Cioè, non si può Minimamente avere una cosa Una cosa Dico io Ma cosa Poi perché sto parlando così? Ma sono impazzito Ci metto mezz'ora Adesso ad arrivare Dall'altra parte Intanto cosa facciamo? Ci diamo Cioè, ma briscola Ci beviamo un caffè insieme Andiamo al bar Eh? Andiamo al bar insieme Non lo so Beviamo una Coca-Cola Perché altro Ovviamente la Coca-Cola È molto buona A me piace la Coca-Cola Ovviamente Chi è che beve la Coca-Cola? Cioè, scrivetemi se voi bevete la Coca-Cola Ma si può dire? Sì, secondo me si può dire Non è che è vietato su YouTube Non è vietato, giusto? No, perché sto dicendo Che la Coca-Cola è buona Quindi è giusto Cioè, perché dovrebbe essere vietato? Bevo la Coca-Cola Perché è molto buona Dai! Perché ancora sto qua? Cioè, è terribile Ok, eh no Non è divertente Se voi state ridendo Io non sto ridendo Cioè, sto piangendo dentro Perché ora sto ridendo Ma è per non impazzire Allora, qua mi dice di non premere il pulsante Ma ti pare Avrei dovuto ascoltarlo Perché se no Come ben vedete Qua sono caduto E potrei anche ben morire Cioè, sono morto in realtà Ma vabbè Evil Potion Ok, questa Evil Potion Dovrebbe farti dare Tipo, tanti brutti effetti Che potrei effettivamente scagliare Contro uno dei miei nemici Che sta per sorgere in questo momento Potrebbe essere una buona idea Però no, brutta questa Ci mettiamo questa Molto più carina Cioè, carina, insomma Ok, sì, dai Va bene, va bene No, perché non stavo capendo Se fosse buono oppure no Ah, adesso vi Evil Potion Morite tutti schifosi Quanto vi odio Io Ma voi non odiate a volte I maialini su Minecraft Io sì Su Minecraft, ovviamente Parlo sempre su Minecraft Perché Ovviamente Cioè, quando io gioco a Minecraft Parlo per Minecraft Né che parlo per altro Cioè, non serve nemmeno Specificarlo naturalmente Però Se continuano a nascermi queste cose Danno un po' fastidio Ecco tutti i miei averi Che ce li ho avuti prima No, 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 no Via c'è un altro bob Salta 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 No i bob sono malvagie mi fanno male Ti prego non mi uccidere Ok ho dei secchi Wow sono proprio utili questi secchi Guardate ci posso fare tante cose E posso prendere Ma io veramente ma allora io Cioè posso dire che sto detestando Il quanto più possibile Questo è no barbus è no side Cioè nel senso pure nei lucky race Dovrebbero essere cose molto divertenti Mi stanno facendo totalmente impazzire Lì lo odio totalmente questo no barbus Ma anche perché poi dopo fa super paura Cioè ma avete visto quanto è brutto Cioè senza offesa per il signore Però è orribile È totalmente brutto cioè nel senso Naturalmente non è normale come cosa Poi comunque cioè nel senso Se lo trovate magari su minecraft Anzi fatemi sapere ovviamente Se anche voi lo trovate su minecraft Perché vabbè questi sono ovviamente i lucky block E questi li ho fatti io naturalmente Per farli molto più belli Però a Eno barbus l'ho trovato veramente nel server maledetto Fa paura fa paurissima Porca scurreggiona Io ho detto no adesso devo Devo cercare di trovarlo Anche perché poi dopo un mio amico me l'ha dato Allora mi dissocio totalmente cosa ho detto Mi ha dato il seed di Eno barbus E non sai cosa stavate pensando E quindi Allora mi sto imbarazzando un attimo Per tutta questa situazione Mi sto crimpando Oh guardate ciao là C'è un Perché tutti quanti iniziano con LLA C'è Laura C'è Lauretta C'è Laurander Beh avete dei nomi bellissimi comunque Se posso permettermi Ma quanto è simpatica questa trappola Guardate Non ho affatto utilizzato la creativa Per uscire da lì No io che uso la creativa Per uscire da queste trappole Che danno solamente fastidio No quando mai Non sta ancora esplodendo nient'altro Secondo me adesso potrebbe Oh mi ha dato un orologio Che mi dice Stai sprecando il tuo tempo Ma come si permette Cioè Io veramente shock Basta Io non sopporto questa shockaggine Comunque mi sa che Siamo arrivati alla fine del percorso Ho vinto Posso dire di essere soddisfatto Di queste Lucky Race Molto magiche Che abbiamo vissuto Questo cielo stellato E pieno di stelle Come ben vedete Fatemi sapere se volete vedere altre Lucky Race Insieme ai miei altri amici Perché questa da sola Potrebbe essere leggermente triste Come cosa Ma perché stanno tornando Cioè stanno tipo in vacanza Tutti quanti Sono un po' così No raga Cioè nel senso La vacanza è un po' così Cioè sono tutti in vacanza Quindi non c'è più nessuno Purtroppo ahimè Però Niente Io ci sono sempre ovviamente per voi Sempre comunque Un bacetto amichevole È stato questo E Lasciate like O iscrivetevi al canale O Attivate la campanellina E vi compaiono altri video Ciao Ciao